Eccole le immagini delle telecamere di sicurezza attive a Vinchiaturo che hanno consentito di chiarire in poche ore i tragici fatti della notte di Natale sul corso principale del paese. Immagini decisive per stabilire la dinamica dell'accaduto. Mancava poco alle due di notte quando una Giulietta guidata da un 26enne panettiere di Baranello ha investito Nicoletta Valente, 35 anni, parrucchiera di San Giuliano del Sanio, che da una quindicina di anni si era trasferita a Vinchiaturo dove aveva aperto il suo negozio. Un impatto violentissimo, la ragazza è rimasta a terra sull'asfalto, il giovane alla guida è fuggito via senza fermarsi. Poco dopo sono stati alcuni ragazzi del posto a soccorrere Nicoletta, priva di sensi sull'asfalto. Lei due giorni dopo, stamattina l'alba è morta all'ospedale Cardarelli di Campobasso, non si è più ripresa dopo quel terribile schianto. Si è dunque ulteriormente aggravata la posizione del giovane alla guida che nel pomeriggio di ieri ha deciso di presentarsi alla polizia. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di omicidio stradale o missione di soccorso. Nella tarda mattinata in procura è stato sentito dal magistrato titolare dell'indagine Giuliano Schioppi. L'indagato è difeso dagli avvocati Giuseppe Fazio e Tiziana Giarrusso. Avvocato, allora stamattina c'è stato l'interrogatorio. Come si difende questo ragazzo dalle accuse che gli vengono mosse? Confessando tutto quello che è accaduto e tutto quello che lui ricorda dell'accaduto. Quindi andando ieri pomeriggio presso la questura dove ha dato la prima versione di ricostruzione dei fatti, a seguire sottoponendosi agli esami tossicologici e per l'alcol, risultati entrambi negativi ieri sera, mostrando il proprio cellulare da cui risulta che non c'erano solamente chiamati in corso durante l'incidente e andando stamattina spontaneamente con i difensori presso la procura della Repubblica a rilasciare poi l'interrogatorio davanti al dottor Schioppi. Perché è scappato? Perché non si è fermato a prestare i soccorsi? Perché il panico in quel momento l'ha fatto da padrone. Di conseguenza la lucidità era assolutamente zero e è scappato via e di conseguenza assolutamente non era in grado di poter compiere quello che avrebbe purtroppo dovuto fare evidentemente. Per il giovane nessun provvedimento restrittivo. È stato denunciato a piede libero, sequestrata la sua auto. Nel pomeriggio l'autopsia sul corpo della ragazza così come disposto dal magistrato. Con la morte di Nicoletta due paesi ora sono sconvolti. San Giuliano del Sannio dove vive la famiglia della ragazza e Vinchiaturo, il paese che l'aveva accolta. La Proloco e le altre associazioni hanno deciso di annullare gli eventi natalizi in programma in queste ore. Il sindaco Luigi Valente a nome di tutta la comunità ha espresso vicinanza ai familiari della ragazza.